Tra chi è certo, chi è incerto, chi ha dei dubbi, ahimè, c'è una percentuale che mette in discussione il futuro dell'impresa che è di poco inferiore al 50%. Il rischio di chiudere la propria attività a causa Covid non è escluso da quasi 4 commercianti su 10. E' questo il dato più eclatante e preoccupante emerso dallo studio che Abicom Lab ha condotto su un campione di 614 piccole e medie imprese del terziario trevigiano, oltre la metà ha accusato difficoltà nel pagare i fornitori, il 40% a saldare gli affitti e mantenere il personale. Allo stesso tempo si è però sviluppata una certa resilienza, sostenuta anche dalle misure straordinarie dello Stato. Di certo si è cambiato il modo di fare impresa. Abbiamo dovuto attivare delle modalità diverse di lavoro durante il Covid, che vuol dire attività al telefono, vuol dire maggior consulenza da remoto, minore presenza con il cliente anche per discutere dettagli e quant'altro, e sicuramente una bassa metodo è fatturato, questo è evidente. Il Covid-19 quindi ha portato diversi nodi al pettine. È stato un acceleratore, un acceleratore di processi già in corso, è un acceleratore che ha già creato appunto delle accelerazioni su alcune dinamiche e deve oggi portare le politiche sociali ed economiche ad accelerare allo stesso modo. Accorrere ai ripari nel frattempo è il sistema della bilateralità, soprattutto sui fronte del sostegno al lavoro, nel caso di stop alla moratoria sui licenziamenti. Noi abbiamo già un sistema consolidato di sostegno a reddito, che l'abbiamo già utilizzato in altri momenti di critici e che è ancora lì ed è molto attivo.